Musica Si è presentata per la prima volta dal suo insediamento lo scorso agosto la nuova proprietà della Isa Yacht, la Palumbo Group, aprendo le porte del cantiere e presentando i progetti futuri. Palumbo Ancona Scipia di Isa, questo è il nuovo nome del cantiere d'Orico che ha scelto di mantenere il brand Isa affiancato dal marchio Palumbo. Il cantiere di Via Mattei è operativo dall'agosto scorso, decisione legata alla scadenza, nello stesso mese, della casa integrazione straordinaria per i dipendenti allo Stato 85 che altrimenti sarebbero andati incontro al licenziamento. La proprietà anticipando i tempi dettati dall'accordo sindacale siglato ha assunto 50 dipendenti in quattro mesi dall'acquisizione mentre dal 9 gennaio è stata attivata la rotazione dei lavoratori in casa integrazione in funzione delle esigenze tecnico-organizzative dell'azienda. Nello stabilimento Anconetano sono attualmente in lavorazione due imbarcazioni da 36,5 e 80 metri che verranno consegnate ai relativi armatori rispettivamente nel giugno-luglio 2017 e nel 2018. A questo si è aggiunto di recente la costruzione dello scafo di un super-riott di 66 metri avendo la Palumbo Ancona Shipyard ISA scelto di investire direttamente con l'obiettivo di cogliere nuove opportunità di mercato riducendo i tempi di consegna. Per lo stabilimento dorico il gruppo ha in programma anche un altro investimento ovvero la costruzione di un nuovo capannone a doppia campata necessario ad ospitare contemporaneamente due imbarcazioni di dimensione superiore agli 80 metri per consolidarsi nel mercato dei cosiddetti mega yacht presidiato meno dalla concorrenza. Un rilevante investimento già deliberato dal gruppo Palumbo che è ora in attesa delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti che verrà realizzato da ditte locali ad ulteriore beneficio dell'indotto dorico. L'investimento è cruciale per affrontare al meglio le sfide di un mercato competitivo e garantire il trasferimento completo di tutte le attività del gruppo legata alla costruzione di yacht presso la Palumbo Ancona Shipyard ISA. Dottor Giuseppe Palumbo, amministratore unico della Palumbo Ancona Shipyard ISA la storia della Palumbo Group. Nasce nel 1967 da nonno Salvatore come cooperativa di gruppo di carpentiere e di saldatore a servizio del porto di Napoli per i vari servizi e in base alla richiesta così si davano personale a bordo per le riparazioni di navi. Poi c'è stato l'unione, l'ingresso di mio padre Antonio nel 1973 e quindi con uno sviluppo da parte, diciamo, da quello che era una cooperativa a un'officina, a una società, a un piccolo cantiere che si chiamava Palumbo SRL. Mano a mano ci, diciamo così, con un po' di tratto in questo settore se c'è bravura, c'è volontà, c'è tutto ma se non c'è anche un po' di fortuna non si arriva da nessuna parte e mano a mano abbiamo iniziato a crescere, a svilupparci a avere sempre più infrastrutture, più clienti poi dopo un po' siamo arrivati noi io lavoro che tenevo circa 21 anni poi mio fratello abbiamo acquisito il cantiere di Messina circa due anni il cantiere è diventato uno dei migliori cantieri del sud del Mediterraneo abbiamo acquisito un importante portafoglio di clienti poi c'è stata l'acquisizione di Malta non ricordo le date però vi do un percorso, diciamo, chiaro l'acquisizione di Malta di un primo cantiere a Malta per la parte commerciale poi l'acquisizione di un secondo cantiere a Malta specializzato nel refit di Ott e così mano a mano sempre più crescita, più clienti sempre più impegno, più responsabilità e sempre più numero di dipendenti e investimenti Con quali accordi relativi alla situazione dei dipendenti è stato il suo ingresso in ISA? L'acquisizione della ISA è avvenuta con 101 dipendenti poi man mano dei dipendenti sono andati via e oggi il numero preciso è 85 quindi 85 dopo che tutti sappiamo che c'è un accordo sindacale che è ben chiaro che c'è un rientro dei 50 dipendenti per il primo anno di produzione è una possibilità che stiamo lavorando per l'acquisizione di una terza commessa per far entrare altre 10-20 unità questo è da discutere dopo l'acquisizione della terza commessa se sono 10, 15 o 20 Con quale obiettivo il suo arrivo ad Ancona? Il nostro arrivo ad Ancona è stato come gruppo una scelta strategica per avere un punto nella parte adriatica dell'adriatico e per avere uno stabilimento dedicato e specializzato per la produzione di Begayot e di acquisire un brand molto forte come ISA che durante lo sviluppo di tutti diciamo così e la costruzione sia parte tecnica sviluppo sia per la costruzione di Begayot ha dimostrato al mercato di avere un prodotto di alta qualità e si è dimostrato anche diciamo così con i fatti perché tutte le barche consegnate ad armatori sono state da noi contattate e sono molto molto contenti Ha sottolineato la volontà di interagire col territorio a partire proprio dalle aziende che lavoreranno per la realizzazione degli interni delle yacht tutti della zona Per il momento sono solo professionalità subcontrattore della zona delle marche tra l'altro che erano già in parte conosciute da noi perché molte di queste aziende lavoravano con noi a Napoli per la costruzione dei nostri yacht Isa è un'arma a doppio taglio? Assolutamente no perché alla fine ci sono sempre i fatti che contano ci sono dei prodotti di qualità ci sono persone che sanno lavorare hanno voglia di dimostrare di saper fare quel prodotto che hanno sempre poi ci sono state altre diciamo così azioni imprenditoriali che loro non hanno gestito e non hanno e non hanno colpa nemmeno io penso che c'è c'è un un buon indutto sia dai dipendenti che sia da altre ditte locali La sfida è aprirsi a questo punto a un mercato paradossalmente più ampio nella realizzazione dei super yacht da 70 metri dunque? Navi in verità no sono super yacht mega yacht come li vogliamo chiamare che noi abbiamo intenzione di investire con infrastrutture attrezzature specifiche del settore per poter costruire barche superiori a 70 metri perché oggi lo stabilimento non lo può fare quindi dobbiamo per forza investire per farlo ci crediamo in quel mercato perché ne siamo in pochi abbiamo tutta la nostra capacità che viene dal dal settore commerciale quindi e anche con strutture che possono dare supporto a questo tipo di sviluppo e ci crediamo e lo vogliamo fare di sviluppo Grazie per la visione!